Benvenuti a tutti ragazzi qui Teddy e benvenuti in un nuovo video Oggi recap delle finals ma prima di incominciare con il video devo dire due tre cose Allora la prima è che la carriera co-op su Formula 1 2021 come ho detto su Instagram è stata annullata Perché io e Sweet non siamo riusciti a trovare una difficoltà bilanciata per entrambi Non è stata una scelta mia però capisco il suo punto di vista e quindi niente la carriera co-op è annullata per questo motivo La seconda cosa è che da domani inizieremo su Twitch ad analizzare le partite Quindi possiamo rivederci tutte le finals, scegliere partite in particolare Poi vabbè ci sarà un sondaggio ogni giorno su Twitch per stabilire questa cosa Quindi da domani dalle 15 su Twitch ci sarà appunto l'analisi tattica di una partita alla volta Perché? Perché in questo periodo mi sto allenando parecchio e di conseguenza voglio lasciare un po' di tempo Per continuare i miei allenamenti da bodybuilder No non è vero Però giusto per rimettersi un pochino in forma E quindi cercherò di dare un po' più di spazio al mio allenamento rispetto alla partita Nel senso che comunque analizzare la partita ci vorranno almeno due ore e mezza, tre di live Probabilmente ci saranno però poi andrò avanti con i miei allenamenti Ecco quindi questi erano gli annunci direi di partire con abbiamo parecchie facce qui da analizzare Abbiamo Adamo bello soddisfatto che completa la saga del povero Giannis Che letteralmente possiamo dire che viveva quasi in mezzo alla strada in Grecia Arriva in NBA, un signor, nessuno, scelto la 15 ma onestamente non si pensava che potesse innanzitutto diventare così grosso Perché quando è entrato in NBA era molto mingerlino Adesso è un palestrato assurdo Che potesse diventare così forte e che a 26 anni potesse avere un resume di tutto dispetto Most Improved, MVP, B MVP, MVP delle Finals All Star, Defensive Player of the Year Praticamente è il primo giocatore nella storia a vincere tutto Quindi Defensive Player of the Year, MIP, Finals MVP ed MVP È il primo e unico giocatore nella storia Record di Shaq battuto per maggior numero di partite da 30 punti col 60% dal campo Insomma un sacco di record su record su record in questa cavalcata playoff Abbiamo un Budenholzer sulla destra come vedete bello sorridente Che guarda Giannis bello sorridente perché gli ha salvato la panchina Un Middleton che se la sghignazza dietro un po' come Steph quando KD ha vinto il Finals MVP al posto suo E un Giannis che alza soddisfatto il Finals MVP a una mano Dicendo I am the king Tra l'altro con una bellissima frecciatina d'arden Nel senso, avete presente la dichiarazione di Antetokounmpo che ha detto Sì, potevo andarmi in un super team, fare la mia parte e vincere Ma ho preferito la hard way Quindi ho preferito La hard way sembra un'altra cosa La parte difficile, la strada difficile Ovvero Sono rimasto nelle difficoltà E alla fine ho vinto con la squadra che mi ha draftato Ho vinto con la squadra che ha creduto in me Con un super massimo salariale Però che ha creduto in me Tra l'altro la hard way poteva andare benissimo anche nell'altro senso Nel senso che i Bucks di Inculate in questi tempi Li hanno prese veramente tante E dai Raptors qualche anno fa Dagli Heat l'anno scorso Insomma, i Bucks a Inculate ne sanno qualcosa Ma finalmente sono loro che questa volta sono attivi e non passivi Che dire di queste Finals? Allora, io partirei prima da un recapino delle partite Ovvero le prime due partite le vince Phoenix E pare una serie quasi indirizzata Nel senso che comunque Gara 1 se la prende CP Free Gara 2 se la prende Booker Diventano il duo a segnare più punti All'interno di due partite delle NBA Finals Combinati ovviamente, punti combinati Phoenix convince Milwaukee rimane aggrappato ovviamente A un mostruoso Giannis Inarrestabile, incontenibile, infermabile E immarcabile Però C'è qualcosa che manca A questa Milwaukee Per portarsela a casa Forse il pubblico Perché in gara 3 Phoenix Avanti nel secondo quarto Prende un parziale di 24 Io stavo guardando la partita Lì ho spento E ho scritto su Discord Ragazzi, questa non la vincono mai E infatti Persa Arriviamo a gara 4 Gara 4 è dove i Bucks Han vinto la serie Tra l'altro Avevo messo anche un Una storia su Instagram Appunto dopo gara 4 Dicendo Oggi i Bucks Han vinto le Finals Non ne perdono più una Molti commenti In direct Sei sicuro Ma guarda che Secondo me Phoenix in casa Poi Una la vince Si va a gara 7 Io ragazzi Tranquilli Che non ne perdono più una Per come l'hanno vinta L'hanno vinta di forza L'hanno vinta di cattiveria L'hanno vinta Distruggendo le poche certezze Dei Suns Ovvero Chris Paul Che ha perso La sanguinosa palla Scivolando Dove poi Appunto Booker avrebbe commesso Il settimo fallo Della partita Nel senso I Bucks Hanno proprio distrutto Psicologicamente In quella partita I Suns Partita punto a punto Middleton che segna ogni cosa Giannis in difesa Con La stoppata Delle stoppate Su Eiton Che secondo me È più difficile Di quella di Lebron Perché Lebron Arrivava in corsa Da dietro Mentre Giannis Ha dovuto Marcare un pick and roll E Praticamente Si è dovuto Girare Immediatamente Saltare da fermo E andare a stoppare Eiton In aiuto Cioè Nel senso Per me è molto più difficile Quella di Giannis Però È molto più iconica Quella di Lebron Perché è una gara 7 Contro i Warriors Delle meraviglie Cioè È più iconica Quella di Lebron Ma secondo me È una stoppata migliore Quella di Giannis È più difficile E nonostante Un Booker Da 42 punti Però nel quarto quarto Ha faticato O meglio Ha giocato poco Nel quarto quarto Perché ha 5 falli Ha fatto un solo canestro In avanzamento Contro Tucker Quel floeder Dal palleggio Di tabella Si pifri Riconoscibile Si parlava Di un infortunio Alla mano Che lui Non ha mai confermato Non si sa se Per Cavalleria Per non Magari Per non dare un segnale positivo Ai Bucks Nel senso No no Ma io sto bene Solo una serata storta E poi invece Magari ci aveva una mano Conciata male Oppure se Effettivamente Non aveva nulla Questo Probabilmente Non lo sapremo Fin quando non uscirà Il suo libro Quella volta che Dove appunto Racconterà La sua prima esperienza Alle finals Spero non l'ultima Ma la prima La prima sicuramente E quindi Gara 4 Per me è stato il pivot al game Perché L'hanno L'hanno veramente Dominata psicologicamente Nei minuti finali E lì Phoenix Paga un po' di inesperienza Paga un po' di inesperienza Dai suoi giovani Paga un po' di inesperienza Da Chris Paul Che non si è mai trovato In una situazione di finals E Monty Williams Che anche lui Playoff Non ne ha fatti tantissimi E soprattutto Allenare alle finals Non proprio Dall'altra parte I Bucks Sono sempre andati In playoff In questi anni Quindi Diciamo che Comunque un po' di mentalità Playoff Un po' di mentalità Da partita Close Da close game C'è Neanche loro Ma è le finals Neanche Budenholzer Da capo allenatore Però ovviamente L'esperienza era molto diversa Tra Phoenix e Milwaukee Milwaukee è una squadra Più rodata Da questo punto di vista Phoenix è una squadra Che non ha fatto i playoff Per dieci anni E si ritrova alle finals Così de botto Senza senso Gara 5 Siamo sullo stesso Sulla stessa lunghezza d'onda Di gara 4 E stavolta Perdera la palla malefica Non è Chris Paul Ma è Devin Booker Che viene triplicato In penetrazione Palla rubata Di quello Che stava giocando male Le finals E meno male Che stava giocando male Le finals Ovvero Drew Holiday Perché ricordatevi Che non esiste solo l'attacco Ma esiste anche la difesa Tra l'altro Quando Chris Paul Scivola Perdendo la palla In gara 4 Lo stava marcando Drew Holiday In tutto questo E poi Arriva l'ally hoop In faccia a Chris Paul Di Giannis Che sostanzialmente Chiude i giochi Ma anche lì Un Middleton Che nel Nel clutch time Si è fatto trovare pronto Holiday in difesa Giannis Completamente incontenibile E dopo gara 4 Giannis Ha voluto esagerare Perché Ha visto la possibilità Di vincere E sapeva che I Bucks E scusate I Phoenix Suns Dall'altra parte Erano completamente Finiti Nonostante comunque Gara 5 e gara 6 Siano state partite Combattute Cioè non è che Phoenix Poi è scomparsa Dal campo E sono state Delle finals brutte Anzi Mi sarebbe da dire Che sono state Delle finals mostruose Dal punto di vista Tattico E Alla faccia Di chi diceva Che Mi ricordo Un commento Di quando i Warriors Vennero eliminati Al play-in Dai Dai Grizzlies Che Avevo messo anche Su Instagram Il post Di uno che aveva detto No Senza Warriors Io non guardo i play-off Perché saranno Una merda Non è andata Proprio come la previsione Del nostro amico Anzi Mi vorrebbe da dire Che sono stati Dei play-off Molto esaltanti Per tantissimi motivi L'uscita dei Lakers Durant In formato Super Saiyan God Contro i Bucks E E Finale di Conference Comunque sono state Carine Con Atlanta Bucks E Suns Clippers Con un Paul George Mostruoso La rinascita di Paul George Le finals Non ne parliamo Partite pazzesche Sono stati Dei play-off Molto interessanti E tra l'altro I rating televisivi Sono schizzati in alto Rispetto Alla pagliacciata Dell'anno scorso Della bolla Almeno Così come è stato Percepito in America Quella della bolla È stata una grandissima Pagliacciata Poi con tutto il Contorno politico Dietro Giusto Sbagliato che sia Questo lo lascio a voi Però l'anno scorso I rating erano Droppati Nonostante Lebron James Fosse alle finals Lebron e Anthony Davis Fossero alle finals E i Lakers Fossero alle finals I rating erano Sfracellati Quest'anno I rating Sono schizzati Letteralmente Alle stelle Forse per la novità Di due squadre Che nessuno si aspettava Alle finals E Non prendiamoci in giro Probabilmente Né l'una Né l'altra Sarebbero state alle finals Senza alcuni infortuni Nonostante io reputi Che Phoenix Avesse più chance Di Milwaukee Di andare alle finals A parità di infortuni Quindi Se Anthony Davis Non si fa male Per me Ha più chance Phoenix Di andare alle finals Se Harden Non si spacca Dopo dieci secondi Di gara uno Tra Bucks E poi Irving Non si spacca In gara quattro Nella serie Tra Nets e Bucks Secondo me Hanno più chance I Suns Comunque Di passare Quei Lakers E di andare alle finals Rispetto A A miluocchi Di battere Brooklyn Al Al completo Tra l'altro Nelle mie previsioni Di Pre playoff Nonostante abbia sbagliato Entrambe le finaliste Dissi Che Secondo me Chi usciva Tra Phoenix E Lakers Sarebbe andato alle finals E Almeno in quello Ci ho Ci ho azzeccato Avevo azzeccato I Clippers Alle finali di conference Non avevo Non avevo pronosticato Philadelphia Fuori con Atlanta E Pensavo che Brooklyn Al completo Andasse alle finals Quindi a est Diciamo che Ho un po' Ho un po' Sbagliato tutto Ecco però Voglio dire Non mi aspettavo Onestamente Una Philadelphia Che si distruggesse Contro Atlanta Si auto Quei che implodesse Contro Atlanta E non mi aspettavo Che Arden e Kyrie Morissero Rispettivamente In gara 1 e in gara 4 Contro i Milwaukee Bucks Però Tornando Alle Alle finals Gara 5 Quindi 3 a 2 E poi onestamente Gara 6 Non poteva non vincere Il greco E la stra Stravinta Con Una percentuale Al tiro libero Che se tirasse Sempre così Tiri liberi Sarebbe Il miglior giocatore Del mondo Per me non lo è ancora Il miglior giocatore Del mondo Perché ha tantissimi limiti Però Se già iniziasse A tirare liberi Come li ha tirati In gara 6 Inizieremmo Già a parlare Di tutt'altra roba Rispetto a quello Che Nonostante Quello Nonostante Quello che abbiamo visto In queste finals E in questi playoff Parleremmo D'altro Tanto per far capire Quanto è il ceiling No Quanto è Il tetto Di Giannis Antetokounmpo Il tetto È altissimo Il problema È raggiungerlo E dovrà lavorare Nonostante Tutti questi Achievements Che ha raggiunto Riuscendo a raggiungere E a Soddisfare La richiesta di Kobe Appunto What's my challenge Li chiese Giannis Scherzosamente Kobe gli rispose MVP E poi Championship E Entrambi Sono stati Spuntati Da Giannis Nel corso Di queste ultime Tre stagioni Ehm Il 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 discorso adesso È che Deve iniziare Però a lavorare Seriamente sul tiro Perché Ehm Quella forma di tiro Deve essere Un po' modificata Deve prendere A maggior Forse a maggior ragione No Che prima dicevamo Eh però Cavolo Se non mette su un tiro Se quello e quell'altro Non vincerà mai Adesso ha vinto E però Rivincere è difficile Ehm Vincere di nuovo È sempre più difficile Che vincere una volta Perché vincere una volta Può essere una casualità E Con gli infortuni di quest'anno Con la mole di infortuni di quest'anno Possiamo farne Ehm Una questione Rivincere però È molto più difficile E allora Secondo me Lui dovrebbe prendere Come spunto Questo finals MVP Per poter dire Diamine Ho vinto il finals MVP Tirando male i liberi Perché A parte Gara 6 Li ha tirati male E non sapendo tirare Immagina cosa posso fare Se so tirare I tiri liberi E so tirare normalmente Quindi Potrebbe prenderlo da spunto Questo finals MVP Come Eh Punto di partenza Anche se Il finals MVP Solitamente è un punto d'arrivo Eh Però Potrebbe prenderlo come punto di partenza Per migliorare ulteriormente E gara 6 Onestamente È stato il L'emblema Della cattiveria Di questo ragazzo greco Che dal nulla Sostanzialmente È arrivato On top of the world Come faceva anche la canzone E Il dominio è stato Esasperato Sotto ogni punto di vista 5 stoppate 50 punti Tra l'altro pure 50 chicken McNuggets Al Al Take away Che c'è La Che ha fatto la live su Instagram Dove andava ad ordinare 50 Chicken Nuggets Con i due trofei dietro In macchina Come fossero i suoi I suoi bambini Insomma Diciamo Diciamo che Tutto sommato L'ha vinto la squadra Che ha Psicologicamente resistito meglio Al primo impatto delle finals Per quanto riguarda Gli sconfitti C'è la questione Chris Paul Booker ha fatto Delle finals Mostruose Per essere le sue prime finals A 24 anni È stato il giocatore Che ha segnato più punti Nella sua prima Playoff run Nella prima Playoff run Appunto Al debutto Della storia Infrangendo Quello di Rick Barry Eton ha giocato Delle finals Forse sopra le aspettative Ma Non al livello massimo Non è quello Il suo livello massimo Però comunque Discrete Quello che più Forse ha deluso Da un certo punto di vista È proprio il point god È proprio CP3 Ora ripeto Aveva un infortunio Alla mano Non lo so Però in alcuni Frangenti di partita Sembrava Che non fosse lui E poteva essere Anche la paura Poteva essere Anche la pressione Non lo so Però Alcune palle perse Francamente Non ce le aspettiamo Dal Dal point god Che comunque Ha avuto delle medie Durante tutte le La cavalcata Playoff Medie assurde Con Un assist Turnover ratio Di 4 a 1 Quindi ogni 4 assist Una palla persa Insomma Si è visto Molto di peggio Però Non Non sembrava lui Ecco A parte gara 1 E gara 6 Non sembrava Gara lui Non sembrava lui Più che non sembrava Non sembrava lui Non sembrava Essere Il CP3 Che abbiamo visto Durante I playoff Certo Budenholz Era aggiustato la difesa Sul pick and roll Che è stata problematica Nelle prime due partite Però Non era lui Non era lui Non credo Per un motivo Per un altro Non era Chris Paul E adesso Phoenix Ha davanti un bivio E purtroppo Non sceglie Phoenix Che è il bivio Di Chris Paul Della sua player option E di quello Che vorrà fare Chris Paul Ha una player option Da 44 milioni E Non scherzo I milioni Sono 44 Se dovesse Accettarla E quindi Di ripresentarsi Con Phoenix L'anno prossimo Io ho dubbi Che possa ripetere Che Phoenix Possa ritornare Alle finals L'anno prossimo Soprattutto Considerando Che non avrebbe Spazio salariale Per Migliorare Ulteriormente Il roster Perché Quei 44 milioni Sarebbero Un macigno Bello pesante Considerando Anche il rinnovo Di Michael Bridges E poi Quello di Eton Insomma Sarebbe Una situazione Salariale Molto Limitate Se invece Chris Paul Dovesse Decidere Che Vuole tornare Alle finals E pensa Che Phoenix Non sia la squadra E Quindi Declini Dei soldi Importanti Però Dei soldi Che lui Ha già Diciamo Guadagnato In carriera Perché Tra massimi Salariali Clippers A Houston Insomma Diciamo Che Chris Paul Di soldi Penso anche Tra sponsor Pubblicità E quant'altro Chris Paul Non sia messo Sull'astrico Per i prossimi 2000 anni Chris Paul E famiglia E generazioni Future Non credo Che per i prossimi 2000 Magari no Però per i prossimi 50 anni Possano andare In bancarotta Se Chris Paul Reputa Che Phoenix È stata una bella Cavalcata Con Monty Williams Però dice Io ho bisogno Di giocatori Più veterani Al mio fianco Quindi giocatori Che già hanno vinto E Io Porto La mia La mia Insomma Expertise Cestistica A servizio Di qualcuno Che ha già vinto Potrebbe decidere Di declinare Quella player option E firmare Ad un contratto Decisamente inferiore Per andare In una squadra Dove Qualcuno Ha già vinto E la squadra Che subito Viene alla mente Sono ovviamente Los Angeles Lakers Perché Sono alla ricerca Di un playmaker Visto che quella Merda di Schroeder È sul mercato A maggior ragione Perché quella Merda Di Kuzma È sul mercato I Lakers Potrebbero Sbarazzarsi Di entrambi E prendere Chris Paul Ad un contratto Decisamente inferiore Ora Se Chris Paul Viene alla Mid-level Exception Cioè si prende Un pay cut Della Madonna Questo non ve lo so dire Se Chris Paul Vuole 20 milioni È già più difficile Da incastrarlo Ai Lakers Se ne vuole 30 in 3 anni Scusate 100 in 3 anni Come Una notizia Di qualche settimana Fa Ai Lakers Non può venire Per nessun motivo Anche perché C'è Telenorton Tucker Da rifirmare A meno che Non venga Tradato Non venga messo In un sign and trade Per arrivare A qualcuno Forse Allo stesso Chris Paul Ma il problema Sarebbe poi La quantità Di soldi A cui bisognerebbe Firmare Chris Paul Per farlo arrivare Visto che In un sign and trade Non si può usare Taxpayer Mid-level Exception Per acquisire Un giocatore Per sign and trade Quindi Se Chris Paul Dovesse venire Per Taxpayer Mid-level Exception Sarebbe solamente Per free agency E non per sign and trade Quindi La questione È abbastanza Complicata Ora Io Vi avevo dato Una suggestione Circa Un ritrovo A new york Da parte di Chris Paul E kawaii leonard Ecco La notizia Dell'infortunio Di kawaii leonard Che dovrebbe saltare Tutto l'anno prossimo O la maggior parte Dell'anno prossimo Chiaramente Rende questo tipo Di binomio Abbastanza difficile Considerando che Chris Paul Ha 36 anni Va per i 37 E saltare un anno Praticamente Da solo a new york A meno che non arrivi Un'altra superstar E facciano i big free Veramente Avrebbe poco senso Per Chris Paul Una cosa del genere Avrebbe molto più senso Per Chris Paul Uscire dal contratto Con Phoenix Firmare Un 1 Più 1 Quindi Un anno Più opzione Giocatore Sul secondo anno Ovunque vuole E vedere Se lì La situazione È buona Per l'anello Ai lakers Potrebbe firmare Un 2 Più 1 Nel senso che Lebron Ha ancora 2 anni Di contratto Quindi lui potrebbe Firmare per gli anni Di Lebron E poi Quando Lebron Va in scadenza Va in scadenza Anche lui E poi Se vorranno giocare Ancora insieme Va bene Altrimenti uno Si ritira L'altro avanti Oppure si ritirano insieme Non lo so Certo è che Visto l'interesse Da parte dei Lakers Per Carmelo Anthony Un banana bot team A Los Angeles Con l'assenza Purtroppo di Wade Che però Prefererei di gran lunga Quella merda di Kuzma E di Schroeder Per me Wade Può anche Rientrare dal ritiro E venire ai Lakers Non è un problema Per quanto mi riguarda Piuttosto Cioè Pur di mandar via Quelle due merde Può tornare anche Danny Green Tanto per dirvi E non è forse Un'ipotesi Neanche così Non è forse Un'ipotesi Neanche così Lontana dalla realtà Tutto sommato Avere Chris Paul KCP Lebron Carmelo E Anthony Davis Come quintetto Di full esperienza Certo Un quintetto Che ha infortuni Si è messi benissimo Mi verrebbe da dire Tra Chris Paul Carmelo E Anthony Davis Proprio Zero infortuni Speriamo Che il prossimo Personal trainer Visto che i Lakers Hanno cambiato Hanno licenziato La vecchia Personal trainer La cinese Appunto È stata licenziata Per i troppi infortuni Di questi ultimi anni E I Lakers Cambieranno quindi L'allenatore atletico Speriamo che Il prossimo Allenatore atletico Sia un pochino Più competente E tenga Anthony Davis Incollato Con il super attack Per almeno un anno Insomma Per Phoenix La scelta di Chris Paul È tutto Se Chris Paul Va via Phoenix avrebbe Un casino Di spazio salariale Quello è vero Perché libererebbe 44 milioni E quindi Rifirmare Bridges E Dayton Sarebbe una passeggiata Il problema È poi Chi Scommette Su Phoenix Senza Chris Paul Quali grandi Free agent Vanno A Phoenix Sapendo che va via Il point god E sapendo che va via Tutto sommato Quello che li ha portati Alle finals Perché fino alle finals Li ha portati lui Poi alle finals Possiamo parlare Sul fatto che non fosse lui Che abbia Abbia cioccato Tra l'altro È diventato il primo giocatore Della storia A perdere Quattro serie Avanti Due a zero E playoff Però due volte Era infortunato Di conseguenza Non so quanto Questa statistica Sia utile Sia utile Però se vi piacciono le statistiche È il primo giocatore Della storia A perdere Quattro serie Di playoff Avanti Due a zero Però ripeto Due volte Era infortunato Due serie Su quattro Era infortunato Il secondo È Blake Griffin Che appunto È stato suo compagno In squadra E Clippers Però Ecco Phoenix Passa tutta da lì Se Chris Paul Rimane Si può pensare Allora Che buoni Free agent Vengano da te Parlo di P.J. Tucker Parlo di Iguodala Se viene liberato Dai Dai Miami Heat Un ritorno Di Drogic Anche se penso Che Cameron Payne Venga rifirmato Anche perché Può essere firmato A 10 milioni Quindi a cifre Sostanzialmente Molto basse Per Per Phoenix E quindi Aggiungere Veterani Ad un gruppo Giovane Come quello di Phoenix E riproporre La stagione Di quest'anno Anche l'anno prossimo Ma non credo Che sarà così Almeno sulla carta Non dovrebbe essere così Se Chris Paul Va via Phoenix rimarrebbe Comunque da zona Playoff Però Secondo me Perderebbe Molto Molte Molte Posizioni E non so Se tornerebbe Alle finals Poi C'è tutta Una off season Da giocare Ci sono prima Le olimpiadi Se le fanno Perché Insomma Tra una settimana Sono tutti positivi Viva Viva le olimpiadi Durante il covid Viva il green pass Viva Viva tutto No Sono a favore Delle vaccinazioni Non sono un Novax Tranquilli Sono a favore Anzi L'ho prenotata Anche io La vaccinazione Il primo giorno Sono disponibile 25 agosto Speriamo che Non ci siano Varianti Gamma Theta Delta No il delta C'è già Però Theta Gamma Omega Siano intanto Subentrate In questo mese Di attesa E Alla faccia Dei letti Antisesso Che hanno messo Nella Nella bolla Di Tokyo Per impedire I contatti Molto ravvicinati Tra gli atleti Pare che non funzioni Questo Niente Fatemi sapere Cosa allora Ne pensate Di queste Finals Beh Sono state Le Finals Incredibili Secondo me Veramente Di altissimo Livello Alla faccia Degli Small market Dei Big market Che Accumulano Tutto Ecco Credo che Queste due Che questa Finals Che queste Finals Facciano vedere Bene cosa vuol dire Il concetto NBA Ovvero che Anche Small market O così definiti Small market Possono fare squadre Importanti Possono andare Alle finali Possono attrarre Un sacco di persone Sia in arena Sia davanti ai televisori Ripeto Lo share televisivo Di queste Finals È schizzato Alle stelle Anche perché Erano le prime Finals Di Giannis Da una parte E di Chris Paul Dall'altra Quindi c'era tanto Hype Anche per questo Motivo Però Appunto Questo è l'esempio Di come Un sistema Democratico Potremmo dire Anche se Poi ci sono Degli inghippi Diciamo Ma dei sotterfugi Ci sono sempre Anche nella democrazia Ci sono i sotterfugi Però Comunque Un sistema Democratico Come quello Della NBA Dove tutte le squadre Hanno le stesse Possibilità Appunto Di come Non solo I big market Vadano alle finals Ma anche Gli small market Certo Probabilmente Senza infortuni Avremmo parlato Di Lakers Brooklyn Nets Oppure di Clippers Nets Quindi Los Angeles Contro New York Che voglio dire Sono le due più grandi Città d'America Però Voglio dire Non è andata così Direi che è tutto Io vi ringrazio Vi saluto Ci vediamo A un prossimo video Can you hear The sound We're the revolution 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 Grazie a tutti.